Allora, la scorsa puntata abbiamo provato a capire un po' perché il tempo è un problema interessante e effettivamente abbiamo tirato fuori tanti spunti mentre in questa puntata cercheremo di andare un po' più nel merito e nella fattispecie analizzeremo una delle teorie della fisica più celebri della fisica moderna più celebre in assoluto ovvero la teoria della relatività speciale Vedremo qual è l'interpretazione del tempo in questa teoria che in un certo formalismo che è quello di Minkowski che analizzeremo tra pochi minuti è naturale ma è tutt'altro che intuitiva in un certo senso implica una visione eternalista del tempo ed Emiliano ci dirà meglio che cosa significa questo e niente, saluto ancora i nostri ospiti Emiliano e Adriano bentornati, il primo video è andato benissimo quindi insomma continuiamo con lo stesso format e niente, passerei la palla subito ad Adriano per un recap su quello che abbiamo fatto la sforza volta teoria A, teoria B che tanto comunque dopo riprenderemo un po' nel contesto della relatività speciale e quindi vai Adriano Sì, buon pomeriggio, buongiorno a quello che è nel vostro fuso il mio compito è abbastanza banale nel senso che mi sono convinto che ogni tanto è bene fare dei punti riassuntivi da cui poi si può ricominciare a discutere tra molte deviazioni alcune forse producono più fumo che arrosto ci sono due cose da ritenere di quello che avevamo fatto l'altra volta in giugno questo articolo famoso in cui per la prima volta è anche quello che un po' ha inventato la terminologia viene data una teoria cosiddetta di serie A e una teoria di serie B ambedue le teorie nella letteratura in inglese adesso c'è perfino due squadre di calcio c'è la squadra dei teorici A e la squadra dei teorici B che si dibattono e argomentano con qualcuno l'altro le due cose sono abbastanza facili nel senso che il tempo di serie A che ripeto è una delle due ipotesi spoiler act è l'ipotesi che venne giudicata dalla persona che la scrisse come un'ipotesi fondamentalmente incoerente per cui effetto in qualche modo di quello che abbiamo chiamato un'illusione c'è un errore vero in cui è facile cadere ma anche se è facile cadere è bene non caderci la serie A è composta di eventi il che è abbastanza intuitivo nel tempo ci sono eventi la mia morte, la mia nascita il matrimonio della regina Margherita e del re di quello che volete voi ogni evento ha questa specificità passa in termini intuitivi da passato a presente a futuro esempio facile la disfatta italiana nella seconda guerra mondiale è passata nel 2021 e futura nel 1941 è presente più o meno l'8 settembre del 1943 attenzione che tutte le copule i verbi è sono messi metalinguisticamente nel linguaggio in cui viene esposta questa visione in modo puramente attemporale nello stesso senso in cui la somma dei quadrati dei cateti è equivalente alla somma del quadrato dell'ipotenusa se vi ricordate il reno di Bedagora un attimo di riflessione capite subito che è insensato domandarsi se è questo è vero di martedì se è un po' meno vero di giovedì e così via l'argomento che vuole come dire montare l'incoerenza è abbastanza semplice nulla proprio nulla il nulla è quella cosa che non è in grado di avere proprietà contraddittorie nulla ha proprietà contraddittorie o sono vivo o sono morto assumendo che la morte sia l'opposto della vita o sono pari o sono disperi se sono un numero però alcuni dicono anche altre cose ancora più complicate però ad esempio che se sono qui non sono lì ma insomma lasciamo perdere prendete la nozione di contraddizione che vi va più comoda e vi rendete conto che di un singolo evento bisogna predicare o vale a dire bisogna dire con verità che questo evento ha delle proprietà che sono contraddittorie perché perché nulla è presente passato o futuro attenzione che il tempo della coppola è senza tempo d'accordo la cosa che è passata non è presente quindi se la sconfitta italiana nella seconda guerra mondiale è passata non sta succedendo adesso tantomeno è futura perché perché è già passata queste cose sono in conflitto sono contraddittorie risposta dell'autore il tempo non si dà in termini di passato presente futuro queste proprietà sono contraddittorie nessun soggetto ha vere predicazioni contraddittorie quindi la cosa che lui propone è il tempo in questo senso nel senso di trapassare futuro presente passato in una direzione passato presente futuro nell'altra lasciamo perdere il problema della reazione l'idea del trapasso è insensata oppure la stessa persona che era tutto meno che stupida è uno dei grandi idealisti inglesi c'è un tempo di serie B c'è un modo alternativo rigidamente alternativo in cui nemmeno si fa uso di passato presente futuro gli eventi piuttosto che avere proprietà monadiche cioè che Palma stia parlando adesso è presente hanno proprietà di ordine relazionale la nascita di mia madre precede la sua morte e la nascita del sottoscritto la succede arriva dopo vale a dire arriva dopo la nascita di mia madre le relazioni sono relazioni di precedenza successione e simultaneità attenzione perché questo diventerà un po' un casus belli nel caso della fisica in cui uno degli effetti dei grandi avanzamenti di tipo einsteiniano è che appunto la nozione stessa di simultaneità va profondamente se non rigettata rivista in modo ovvio il tempo di serie B ammette la simultaneità per cui l'esempio facile che mi viene da avere pensate a relazioni di simultaneità semplice se una pallonata rompe il vetro della finestra l'arrivo del pallone è simultaneo alla rottura del vetro potete spaccare il capello in 4 16 32 64 porzioni ma è grosso modo simultanea uno dei vantaggi di questa cosa è che si evita una difficoltà presente con il tempo di serie A ed è che non c'è nessuna contraddizione cioè che l'evento preceda o succeda o arrivi prima o arrivi dopo o arrivi allo stesso tempo di non implica nessuna contraddizione uno dei possibili pregi è che sembra logicamente sano uno dei possibili veri svantaggi è che non sembra vi sia una qualche tenuta del tempo d'accordo? il tempo è fatto solo di queste relazioni vale a dire non passa praticamente nulla per quello che adesso do la parola ai miei colleghi amici per quello che conta questa cosa sembra sostenere un certo tipo di eternismo il punto di domanda da tenersi in testa certamente per i prossimi 45 minuti è che cosa voglia dire essere veramente simultanei intuitivamente è chiaro però un filosofo che era forse un pessimo filosofo in alcuni aspetti però aveva delle battute fenomenali domandava sempre perché è insensato chiedere che ora fa sul sole l'ora nostra è determinata più o meno dalla posizione del sole mezzogiorno è il punto più alto del sole sull'orizzonte domandarsi ma quando è mezzogiorno dove sto io che ora fa sul sole il filosofo Wittgenstein l'idea non è mia ma la trovo splendida questo è un caso di non senso non c'è né una risposta è più tardi è prima è simultanea non c'è l'ora sul sole per cui in questo senso credo che una delle nozioni di relazione che vengono utilizzate quella di simultaneità dà adito a parecchi problemi che come sempre in questi casi si spera che arrivi la cavalleria che è composta da più o meno un impiegato dell'ufficio dei brevetti che nel 1905 ha un po' scosso non solo la fisica ma certamente la fisica tale Einstein prego vi do la parola beh vai Emiliano allora se hai capito degli appunti merito io ti lascerai introdurre la teoria così entriamo direttamente nel merito cosa dici poi io mi tengo i commenti per dopo ok allora facciamo un passo indietro di 300 anni mettiamoci ai tempi di Giordano Bruno Galilei eccetera e pensiamo alla relatività del moto ovvero nulla è veramente fermo o si muove in maniera assoluta ma ci sono cose ferme cose che si muovono le une rispetto alle altre io sono fermo rispetto al mio computer il mio computer è fermo rispetto alla strada la strada è ferma rispetto alla superficie della terra ma la terra non è ferma rispetto al sole il sole non è fermo rispetto al centro della galassia il centro della galassia non è fermo rispetto ad Andromeda Andromeda non è fermo rispetto al centro del gruppo locale di galassie e così via nell'universo tutto si muove rispetto a qualcosa e questo è il principio di relatività del moto che già Giordano Bruno aveva osservato nel 1600 poco dopo Galileo ferma quello che è un po' il cardine su cui andremo a un po' buttare il nostro focus che è quello che Einstein generalizzerà per la teoria della relatività speciale ovvero allora prendiamo un sistema di riferimento cioè quella porzione di spazio di tempo in cui io posso effettuare i miei sistemi i miei esperimenti quindi prendere i tempi con gli orologi e misurare le distanze nelle varie direzioni spaziali Galileo affermava che ci sono dei sistemi di riferimento privilegiati in cui vale il principio di inerzia che si chiama sistema di riferimento inerziali in cui i corpi tendono a mantenere il proprio stato di moto cioè se sono inquieti restano inquieti se sono in moto reti di uniforme restano in moto reti di uniforme a meno che non ci siano interazioni cioè se arriva Adriano Palma e ferma il corpo che si sta muovendo in moto reti di uniforme chiaramente questa è un'interazione come l'acrito dell'aria come tante altre cose e la gravità o quant'altro beh in un certo senso Galileo porta per capire meglio potremmo fare l'esempio che porta a Galileo ovvero la stiva della barca se ho una nave senza oblò il mare è molto calmo la nave si sta muovendo a velocità costante io dall'interno della stiva della barca non posso capire se mi sto muovendo se sono fero mettere un osservatore esterno vede la barca muoversi o all'interno della barca non so se mi sto muovendo e questo è un sistema di riferimento inerziale in un certo senso e quello che afferma Galileo è le leggi della meccanica che sono le leggi della natura che si conoscevano al tempo sono valide in ogni sistema di riferimento inerziale ecco questo si chiama principio di relatività Galileo Iano e la teoria della relatività speciale bisogna mettersene in testa è una generalizzazione di questo principio una generalizzazione in che senso? nel senso che nel 1800 si sono visti che i fenomeni elettromagnetici avevano delle caratteristiche particolari ovvero diciamo che il riassunto dell'elettromagnetismo sono le equazioni di Maxwell che formano nel 1860 e qualcosa 63-65 non ricordo e queste se risolte si vede sono delle equazioni delle onde e noi sappiamo che le onde si devono propagare in qualcosa insomma in qualche mezzo e soprattutto si è visto che la velocità di propagazione di queste onde è proprio la velocità della luce che si poteva misurare già al tempo e quindi questo fa pensare che la luce potrebbe essere un'onda elettromagnetica ma soprattutto ci si chiede ma rispetto a cosa cioè in che mezzo si propaga la luce e soprattutto si vedeva che la velocità di propagazione non aveva veramente un come dire un l'esplicitazione di un sistema di riferimento quindi quello che si pensava è che si propagasse in un mezzo che si chiamava etere e questo etere era inquieto rispetto a quello che si pensava essere lo spazio assoluto a livello newtoniano quindi si è provato a misurare la velocità relativa del moto rispetto all'etere e questo potrebbe in un certo senso rompere anche il principio di relatività perché allora cavolo se possiamo misurare la velocità relativa rispetto all'etere possiamo misurare la velocità assoluta dei corpi rispetto a questa scatola che contiene tutti i corpi che lo spazio assoluto questi tentativi sono falliti l'esperimento più diciamo caratteristico è quello di Michelson e Morley che fermano il traffico di New York si mettono in cima a un grattacielo provano con questo interferometro per cui vinceranno anche il premio Nobel perché è lo stesso strumento ancora molto più complicato con cui rivediamo le onde gravitazionali e dobbiamo misurare una figura di interferenza che non misurano rifanno l'esperimento predicano aspetta che forse le velocità relative della rotazione della terra rifanno l'esperimento uguale nessuna figura di interferenza niente vuoto quindi o la terra è ferma o forse devo cambiare un po' il punto di vista della mia teoria e arriva Einstein che dice aspetta non utilizziamo la visione di Galileo per vedere queste equazioni utilizziamo la versione di Lorenz e qua mi spiego meglio Galileo cosa diceva? diceva che per passare da un sistema di riferimento ad un altro sistema di riferimento inerziali devo passarci con delle leggi di trasformazioni che erano abbastanza intuitive ad esempio prendiamo le velocità se io sono nella stiva di una nave e lancio un frisbee ai 5 km orari Adriano Palma che è fermo sulla spiaggia che prende il sole e legge Heidegger misurerà la velocità del frisbee se il frisbee è lanciato nella stessa direzione del moto della nave come 5 km orari più la velocità del moto della nave è abbastanza intuitivo questo Einstein dice assumiamo che la velocità della luce sia costante per tutti i sistemi di riferimento e quindi prendiamo le trasformazioni di Lorenz come quelle vere per passare da un sistema di riferimento ad un altro beh questo in un certo senso significa che fa fallire questo banale esempio della somma della velocità perché se invece il frisbee lancio un raggio di luce a velocità c cioè sparo con un laser un fotone o una serie di fotoni oppure semplicemente posso immaginare accendo una torcia misura con la velocità che è 300.000 km al secondo Adriano Palma dal suo sistema di riferimento inquiete misurerà 300.000 km al secondo esattamente come ho misurato io all'interno della stiva della nave diciamo che trasformazione di Lorenz costanza della velocità della luce e principio di relatività einsteiniano cioè le leggi abbiamo visto quello di Galileo le leggi della meccanica valide in tutti gli sistemi riferimenti inerziali quello einsteiniano è le leggi della fisica conosciuta al tempo quindi meccanica ed elettromagnetismo valide in tutti gli sistemi riferimenti inerziali questi tre pilastri costanza velocità della luce trasformazione di Lorenz e principio di relatività einsteiniano poi assunti rispettivamente penso ne bastano due di questi presi un po' nel dove si vuole per derivare l'altro sono la base della teoria della relatività speciale e ha delle conseguenze molto importanti allora prima di tutto vabbè essendo che io ho inglobato anche l'elettromagnetismo e l'ho spiegato e ho spiegato gli esperimenti e come quelli micro sono le molli queste cose qua e del fatto che non esiste un sistema di riferimento privilegiato nemmeno data l'esistenza di chilometri elettromagnetici devo assumere le trasformazioni di Lorenz e le trasformazioni di Lorenz hanno questa caratteristica che si preservano la velocità della luce ovvero non vale più la somma delle velocità così come la conosciamo quindi cambia anche il globo dell'elettromagnetismo e cambia anche la meccanica quindi anche le trasformazioni non solo per diciamo sistemi di riferimento che si muovono dalla velocità della luce o per fasce di luce ma anche le trasformazioni da un sistema di riferimento iniziale a un albo qualsiasi cambiano in realtà più complicate e soprattutto mescolano e adesso mi spiegherò meglio che cosa voglio dire con questo le coordinate spaziali con quelle temporali ovvero a livello newtoniano lo spazio e il tempo sono oggetti distinti e assoluti il tempo assoluto e lo spazio assoluto il tempo che misuro in un sistema di riferimento inerziale per Galileo è lo stesso che misuro in tutti i sistemi di riferimento inerziali le distanze che misuro in un sistema di riferimento inerziale per Galileo sono tutte uguali in tutti i sistemi di riferimento inerziali cioè se io misuro un righello di 10 cm dal mio sistema di riferimento oppure questo righello di 10 cm si muove a una certa velocità a un sistema di riferimento si muove a una certa velocità e questo non si contrae né si dilata è sempre lo stesso quindi non solo cioè diciamo che il cambio di sistema di riferimento non influisce sulla distanza che misuro nel righello e quindi che un oggetto si muova o che si inquiete le distanze spaziali sono preservate così come le distanze temporali come i tempi che misuro con gli orologi questo in relatività speciale non è più vero nel senso che appunto le trasformazioni di Lorenz sono diverse da quelle di Galileo e spazio e tempo non sono più assoluti sono un'entità mescolata nel senso che le trasformazioni di Lorenz se si prendono si vedono proprio che mescolano la coordinata t la coordinata x y z sono mescolate assieme quindi un cambio di sistema di riferimento ha come conseguenza che contrae i tempi o le dilata oppure contrae le lunghezze le dilata quindi le distanze spaziali non sono più preservate un oggetto che si muove è più contratto e le distanze temporali anche sono non sono più preservate ovvero il famoso no moving clocks run slow slow o slower adesso mi ricordo quella famosa frase però insomma sì cioè gli oggetti gli orologi che si muovono vanno più piano in un certo senso ma in che senso rispetto al mio sistema di riferimento ovvero se io ora parto e vado a farmi come il paradosso dei gemelli poi nel video parlo ad esempio di muoni vado a farmi un viaggio e torno avrò una età diversa rispetto a quella del non so del mio del mio gemello che non ho però che dopo andiamo lo spiegano un po' meglio che è rimasto il fratello questo per dire anche che fallisce uno degli aspetti più intuitivi della nostra realtà che è la simultaneità ovvero gli eventi il concetto di simultaneità che i due eventi siano simultanei non ha più senso in relativa speciale perché prendiamo un esempio semplicissimo e poi concludo un vagone di un treno che si muove a velocità costante due fasci di luce che dal centro del vagone vengono diciamo sparati rispettivamente alla punta e al fondo del vagone la cima e al fondo del vagone per un osservatore interno questo è un evento perfettamente o meglio diciamo il raggiungimento delle due esternità del vagone è un evento assolutamente simultaneo perché la luce si muove a velocità in tutte e due le direzioni sono all'interno del vagone quindi io mi considero fermo questo è un evento simultaneo per un osservatore esterno a livello gallileiano dovrebbe essere simultaneo perché la velocità della luce dovrebbe trasformarsi anch'essa con la somma delle velocità mentre a livello relativistico la velocità della luce è costante anche per il sistema di riferimento esterno e quindi l'osservatore esterno vedrà un fenomeno non simultaneo in particolar modo la cima verrà toccata dopo dal raggiungimento rispetto al fondo e questo ha delle conseguenze a livello filosofico chiaramente e nella visione del tempo e anche l'ultima cosa che forse vale la pena dire è proprio che il formalismo più naturale rispetto a cui la teoria viene costruita è il formalismo di Minkowski ovvero vedere non più spazio e tempo come due entità distinte visto che le trasformazioni di Lorenz le mescolano ma vedere lo spazio e il tempo come un'entità unica come uno spazio e tempo e si può fare anche con Galileo il problema è che non ho grossi vantaggi così apparentemente a farlo nel senso che lo spazio e tempo sono distinti quindi sì può strattarli come un unicum ma in realtà le trasformazioni le mescolano mai li tengono sempre separati mentre in relatività la formulazione di Minkowski con questi quadri vettori queste cose qua è decisamente quella più a livello geometrico quella più naturale e una riprova di questo fatto è poi la teoria della relatività generale che poi questo aspetto questa formulazione di Minkowski è talmente forte talmente naturale che è la base su cui costruiamo tutte le teorie della fisica moderna la teoria quantistica dei campi eccetera a livello geometrico hanno l'intuizione Minkowski alla base ecco direi che per un quarto d'ora anche troppo queste sono un po' le basi della relatività speciale adesso continuiamo con il video per vedere le implicazioni filosofiche vai Emiliano ma dunque sì che la relatività almeno nell'interpretazione che gli è stata data quasi da subito creasse dei problemi con l'idea che il tempo passa addirittura con l'idea che il tempo esiste a fatto questo era il risultato chiaro sin da subito Einstein aveva confessato a Carnap di essere molto preoccupato del fatto che non vi fosse spazio per la nozione di un presente nel mondo relativistico e vedete non è tanto che non vi sia nel formalismo qualche cosa che indichi qual è il tempo presente perché anche nella fisica classica non c'è qualche cosa che indica quale sia il tempo presente noi possiamo perfettamente dare una modellare in modo quadridimensionale anche la fisica classica basta aggiungere una dimensione che è quella del tempo ma come dicevi quello che sembra creare un problema è che l'interpretazione standard della relatività è incompatibile con l'idea che vi sia un presente Gedel che era questo forse più grande logico del novecento ma anche un grande fisico che ha contribuito molto allo sviluppo della relatività diceva l'idea che il tempo passi prevede che ci siano delle fette di simultaneità degli iperpiani di simultaneità che vengono ad essere in sequenza c'è questa idea insomma che il tempo abbia qualcosa a che fare con l'esistenza l'idea che se vuoi è molto intuitiva perché se noi ci chiediamo se noi cerchiamo di fare il novero di tutte le cose che esistono e poi ci chiediamo ma la risposta che diamo a questa domanda dipende da quando ci facciamo la domanda e sembra che intuitivamente diremo tutti di sì per esempio se uno dice ma ci sono i dinosauri lasciamo stare gli uccelli la risposta sembra essere un no un no assoluto non nel senso no beh non sono qui con noi ma sono lì no non ci sono affatto e la ragione per cui se li cerchiamo non li troviamo è perché non esistono affatto sono diventati più simili a Pegaso o agli unicorni di quanto non siano simili ai leoni e alle zebre e questa è l'idea intuitiva che abbiamo ed è certamente compatibile con la fisica classica proprio perché nella fisica classica c'è spazio per un questi iperpiani di simultaneità assoluti per cui se qualche cosa è presente qui per noi intuitivamente noi pensiamo che tutti gli eventi che sono simultanei a questo evento siano a loro volta altrettanto presenti no sono presenti tutti gli eventi che sono simultanei fra loro e siccome in relatività una delle varie cose dei vari aspetti del tempo che sembrano intuitivi che vengono meno è precisamente l'assolutezza della simultaneità per cui non ha più senso chiedersi in senso assoluto se due eventi distanti gli uni dagli altri siano simultanei oppure no prendiamo due eventi un bacio a Parigi e un bacio a Venezia questi sono due eventi nell'intuizione classica che abbiamo ha senso chiedersi quanto distanti sono i luoghi dove questi sono accaduti e questa è una risposta che è assoluta nel senso che la natura sa quanto sono distanti e tutti dovremmo concordare non importa quando ci muoviamo se ci muoviamo se siamo fermi la risposta è unica sono distanti un certo numero di chilometri e allo stesso modo se ci chiediamo quando sono accaduti sono accaduti nello stesso momento oppure prima uno dopo l'altro nuovamente la risposta intuitivamente dovrebbe essere una risposta assoluta che non ha nulla a che fare con il luogo in cui sono accaduti quindi dove sono accaduti non ha a che fare con il quando sono accaduti e quando sono accaduti non ha a che fare con il dove sono accaduti cioè questa separazione degli intervalli spaziali e temporali questa separazione è precisamente una delle cose che viene meno nella relatività per cui se ci facciamo la stessa domanda sul bacio a Parigi e il bacio a Venezia la risposta dovrà essere beh dipende dipende secondo qualcuno che si muove molto velocemente saranno accaduti prima l'uno e dopo l'altro a una distanza temporale di non lo so un anno secondo un altro invece no forse il fenomeno più noto di tutti in questo senso è il paradosso dei gemelli per cui e noi sappiamo che è vero perché l'abbiamo osservato concretamente che se due gemelli si separano e uno parte per un viaggio noi ci aspetteremo che gli orologi se funzionano bene saranno sincronizzati per cui qualsiasi sia il tempo di questo viaggio al ritorno del gemello i due orologi saranno ancora d'accordo cioè saremo tutti d'accordo su quanto è durato quel viaggio invece sappiamo che non è così chi è rimasto fermo non misurerà un certo numero di anni e chi invece si è mosso ne misurerà un numero anche molto inferiore a seconda di quanto velocemente si è mosso ora tutto questo è incompatibile con l'idea che esista un avvicendarsi di eventi che vengono ad essere e poi smettono immediatamente di esistere quando il tempo passa perché chiaramente se non vi è un accordo riguardo alla simultaneità degli eventi tale per cui è possibile che due eventi siano simultanei fra loro rispetto a un certo sistema di riferimento e invece in successione rispetto ad un altro e allora è impossibile o sembra molto intuitivamente impossibile che il passare del tempo abbia qualche cosa a che fare con il venire ad essere perché se noi ci chiediamo che cosa esiste e speriamo di ottenere una risposta assoluta non ha molto senso rispondere beh dipende se ti stai muovendo a questa velocità rispetto a me penserai che esistono i dinosauri se invece non ti stai muovendo penserai che non esistono questo sembra stridere fortemente con la nozione che abbiamo di cosa significa esistere o sono parte dell'universo o non sono parte dell'universo non sembra avere molto senso che qualcosa esista per qualcuno ma non per qualcun'altro quindi la relatività sembra nella sua interpretazione standard sembra fortemente indicare quello che i filosofi chiamano un eternismo cioè la visione secondo la quale ogni evento che è parte dell'universo esiste attemporalmente e non è venuto ad essere e non cesserà mai di esistere non ci può essere nulla che entra ed esce dall'esistenza l'universo è un blocco infatti questa si chiama spesso la teoria del blocco il blocco contiene gli eventi che contiene e quelli che vi sono contenuti sono in un certo senso incastonati eternamente nel nel novero delle cose che esistono e tutti gli altri non esistono affatto e non esisteranno mai quindi è una visione statica se vuoi molti non trovano questa visione sufficientemente plausibile lo stesso Einstein non ha dovuto combattere molto con se stesso per accettare che questa fosse una conseguenza però non tutti sono d'accordo che questa sia la conseguenza da trarre dalla relatività poi se vuoi vediamo in che modo si può resistere a questa conclusione anticipando ci sono due modi essenzialmente o negare la teoria nella sua interpretazione standard e poi vedremo che non è così folle come sembra oppure pensare che invece questo argomento che ho appena bozzato non sia valido e cioè che vi sia nonostante tutto spazio per un passare del tempo genuino anche in un in un contesto relativistico poi se vuoi entriamo nei dettagli di come queste due strategie possono essere messe in atto benissimo prima vai 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 una osservazione Einstein era era effettivamente molto contrastato l'ho anche detto non è come una interpretazione un'illazione c'è però secondo me che c'è una ragione per restare molto interdetti è difficile accettare la conseguenza da trarre di questa cosa è che una relazione di simultaneità semplicemente non c'è non solo nei casi più o meno esotici e bizzarri dei gemelli che viaggiano delle altre velocità la maggioranza di noi a giorni anche il sottoscritto quando non è troppo filosofo noi pensiamo che quello che succede a me adesso sia simultaneo a quello che succede a me adesso lasciate perdere le cose complicatissime come se i due orologi che vengono regalati ai gemelli alla nascita saranno sincroni dopo che uno è andato su Venere non lo so e l'altro torna la simultaneità non c'è la mia sensazione di facciamo una variazione perché i filosofi sono ossessionati al dolore la mia sensazione di orgasmo per molti è simultanea all'orgasmo lasciate perdere la fisiologia irrilevante invece la teoria dice che questo è impossibile però forse in questo senso la teoria è un po' più generosa con le nostre infizioni perché almeno in un unico punto dello spazio-tempo è garantita la simultaneità assoluta tutti gli osservatori sono d'accordo assumendo che il tuo orgasmo accada dove accade la sensazione se accadono nella stessa regione dello spazio-tempo anche per la relatività questo sarebbe garantito è quando è quando ci si trova in posizioni diverse questo è il problema ho preso l'orgasmo non a caso non è per introdurre elementi di volgarità non richiesti è perché dove accade non è il mio cervello no d'accordo allora per cui lì diventa un problema la simultaneità mi dispiace ma taglia molto a fondo quando rifiuti questa cosa cioè se la domanda Palma ha avuto un orgasmo dipende veramente ma guardi guardandolo da un certo punto la distanza è breve sarà 90 centimetri a farla grande un metro però appunto se la simultaneità non c'è non c'è taglia forte per cui credo che sia una volta che siamo convinti che bisogna rifiutare questa cosa le revisioni se non le rivoluzioni sono enormi anche su cose che direttamente i fisici non considerano non trovano importanti la seconda parte che invece trovo interessante e mi scuso se sembra un rompi rompi oggetti ma abbiamo parlato 51 minuti per cui fare attenzione vorrei che i due più competenti di me fisici invece almeno schizzassero o annunciassero se esistano interpretazioni completamente alternative cosa intendo dire tutto quello che abbiamo in mano o almeno che ho in mano io che non sono professionalmente un fisico ben lungi è che la teoria di relatività in realtà sia ristretta che generale è tra le cose più confermate è difficile fare graduatorie però il tasso come dicono gli scienziati il tasso di corroborazione che ogni volta che uno ha fatto una previsione che doveva essere smentita viene sempre confermata cioè è vero l'ultima volta che mi sono messo a leggere questa roba è vero che anche un aeroplano c'è una variazione chi vuole un orologio di alta precisione che è difficile fare con gli strumenti in commercio normali però lo hanno fatto ancora di più se veramente che ne so adesso c'è un robot su Marte sì è su Marte lì si cominceranno a notare gli effetti di questo genere allora se accettiamo che questa teoria è seria esplorare interpretazioni alternative è a modesto avviso sottoscritto vitale perché i costi sono enormi sono proprio enormi senza alcun dubbio per cui se esiste un metodo di dire no la fisica resti fisica così come la conosciamo si noti bene questo non ha nessun aspetto dogmatico forse sottolineato molte volte anche la teoria della relatività è falsa però io ho i miei dubbi onestamente non è che le cose in cui capisco capisco le origini dello scetticismo però trovo che lo scettico ha quasi certamente torto ovviamente non è un teorema nel senso normale di teorema per cui dire che è necessariamente vero mi sembra anche un po' furviante tuttavia è importante che tenete presente tutti voi i non tecnici che una volta che si lascia cadere l'idea di simultaneità la nostra nozione di tempo deve modificarsi in modo molto radicale sia che voi siate eternalisti o anti-eternalisti più pro-Einstein o più anti-Einstein tutte queste opzioni sono esplorabili però se abbandoniamo la simultaneità molte cose diventano altamente controintuitive questa è la modesta opinionale sottoscritta ma prego voi due io voglio fare se mi permette Emiliano voglio fare due appunti quando intendevo tu sei stato più chiaro quando dicevi proprio della separazione cioè quando io intendevo che queste trasformazioni di Lorenz mescolano lo spazio-tempo e come hai detto te anche da un punto di vista non relativistico posso benissimo vedere lo spazio-tempo come un'entità quadridimensionale cioè nulla me lo vede questo è un punto di vista con formalismo se vogliamo ma quello che fanno in più le trasformazioni di Lorenz ed è questa la ragione per cui forse questo siamo stati un po' troppo veloci a meno io personalmente sono stato troppo veloci l'ho sorvolato un attimo è proprio che la nozione di simultaneità accade proprio per questo fatto cioè per il fatto che una trasformazione da un sistema di riferimento a un altro porta con sé se magari vuoi fare share dello screen dei boost ad esempio di Lorenz così che si possano vedere portano con sé la coordinata temporale e questa è la ragione banale matematicamente se si vuole del perché la simultaneità accade sì la seconda appunto che è forse l'esperimento più caratteristico secondo me che è un po' un esperimento dei gemelli delle particelle ovvero che è l'esperimento dei muoni negli strati alti dell'atmosfera ci sono dei fenomeni per cui si creano dei muoni sinceramente non ricordo qual è esattamente l'esperimento ma il muone ha un tempo di decadimento se non sbaglio il muone decade in elettrone più neutrini muonici ed elettronici di circa un milionesimo di secondi ecco facendo proprio dei conti si muovono quasi alla velocità della luce facendo proprio dei conti con calcolatrice nulla di difficile se noi prendiamo la distanza in cui l'avvento fisico diciamo nascita del muone l'avvento fisico che porta il muone ad arrivare verso i nostri rilevatori accade tot migliaia di chilometri e il tempo di vita del muone di un milionesimo di secondo vedremo che il nostro rilevatore o meglio il tempo che impiega il muone per arrivare a noi è maggiore del tempo di vita che noi misuriamo in laboratorio del muone cioè il muone dovrebbe decadere per strada per capire però nel sistema di riferimento nostro questo magari ci mette non lo so tre secondi spara adesso veramente non mi ricordo ma nel sistema di riferimento del muone che non si muove alla velocità della luce perché è comunque una particella dotata di masse quindi può muoversi la velocità della luce però siamo molto vicini nel sistema di riferimento del muone questo tempo scorre diversamente quindi in realtà lui nel suo sistema di riferimento lui vive e ce l'ha meno sei secondi un milionesimo di secondi è nel nostro sistema di riferimento che 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 diciamo in realtà il muone poi vive più a lungo semplicemente perché in realtà si sta muovendo con una velocità molto molto più alta però se noi li osserviamo i laboratori il tempo di decadimento del muone è 10 a 16 insomma questo è quello che si vede dagli esperimenti e questo in un certo senso è la sì forse un esperimento un paradosso dei gemelli versione particellare che è anche più più intuitivo quindi sembra paradossale che una particella che si sa vivere 10 alla meno 6 secondi in realtà riesce ad raggiungersi e un motivo può anche essere semplicemente visto una cosa che non abbiamo menzionato della contrazione delle lunghezze anche perché dici ma aspetta allora il muone però lui vive 10 a meno 6 secondi però lui sa che la distanza è quella lì allora lì c'è un paradosso perché il muone se fosse dotato intelligenza direbbe ma aspetta io quella distanza non la posso coprire in 10 a meno 6 secondi devo decadere prima però noi sappiamo che le trasformazioni di Lorenz proprio perché mescono spazi e tempo portano anche a una contrazione delle lunghezze quindi in realtà dal punto di vista del muone la terra gli si sta avvicinando a una certa velocità e questa porta una contrazione delle lunghezze quindi in realtà lui copre una distanza che in 10 a meno 6 secondi è anche compatibile diciamo con questo quindi non c'è nessun paradosso in questo peraltro l'esperimento dei gemelli è stato fatto già negli anni 70 montando degli orologi atomici su un aereo intorno intorno alla terra e notando che al ritorno questi erano indietro rispetto agli orologi che erano rimasti a terra e naturalmente lo spazio percorso per loro era leggermente stiamo parlando di veramente di milionesimi di secondo ma tant'è e questo è chiaramente un un paradosso dei gemelli realizzato infatti non è un paradosso è solo molto controintuitivo però è realtà tangibile forse prima di parlare di teorie alternative per chiarire per chi non è non ha familiarità con la matematica e la fisica nell'ottocento e nel novecento il concetto di spazio si è immensamente ampliato diventando estremamente astratto per cui quando diciamo che la realtà è rappresentata da uno spazio quadridimensionale non dobbiamo pensare a quattro dimensioni spaziali di cui una ci sarebbe sconosciuta ma mentre in uno spazio fisico ci sono i punti dello spazio quelli dove sono collocati gli oggetti lo spazio di Minkowski è uno spazio è fatto di eventi e gli eventi hanno bisogno di quattro coordinate però ecco la domanda di Adriano se ci sono teorie alternative sì lasciamo perdere naturalmente che sappiamo che le teorie anche le meglio confermate possono essere false come è successo alla teoria di Newton questo però è una risposta poco soddisfacente però prima che Einstein proponesse la sua elegantissima soluzione a quei problemi la prima cosa che è venuta in mente ai fisici è di pensare che ci fossero delle forze che facevano contrarre le lunghezze e che contestualmente facessero rallentare i processi questa è una cosa intuitiva se tu vedi che il gemello torna più giovane penserai che le sue cellule sono invecchiate più lentamente che qualche cosa ecco queste si chiamano teorie compensatorie Fitzgerald è stato uno dei primi a proporle poi Lorenz stesso la sviluppate oggi sono state ulteriormente sviluppate sono conosciute come teorie neo-lorenziane che quasi nessuno si deve perché dobbiamo pensare che ci sia una sorta di teoria del complotto della natura che congiurerebbe per farci credere che valga il principio di relatività quando non vale però oggi sappiamo che queste teorie sono esattamente empiricamente equivalenti alla relatività quindi le ragioni che abbiamo per preferire l'una all'altra sono di natura metafisica filosofica ma è un po' un mito che le teorie fisiche siano puramente empiriche chiaramente c'è una enorme dose di interpretazione quindi esistono queste teorie ma non solo queste se parliamo invece di meccanica quantistica che che sembra molto più più generosa con il tempo di quanto non si era la relatività in alcune interpretazioni la meccanica quantistica prevede è che esista un iperpiano di simultaneità assoluto e quindi l'esperimento di Einstein Poldowski e Rosen in alcune interpretazioni sembra suggerirlo l'interpretazione bohemiana della meccanica quantistica sembra suggerirlo e quindi non è del tutto assurdo pensare che esista un iperpiano di simultaneità e quindi che la realtà sia compatibile con il passare del tempo nonostante questo non sia almeno attualmente rilevabile da esperimenti però va detto naturalmente che la teoria l'interpretazione standard della relatività ad oggi è il modo più plausibile di rendere conto dei dati empirici che alla fine si riducono alla validità delle trasformazioni di Lore e la domanda che sorge un po' è anche come si sposa la teoria della relatività con le teorie A e B abbiamo visto quelle interpretazioni A e B insomma beh allora per gli incompatibilisti di cui stiamo parlando non si sposa affatto è incompatibile con la teoria A il tempo non passa davvero ci sono relazioni temporali oggettive perché anche in relatività eventi che sono tra loro causalmente connessi o potenzialmente connettibili per esempio un bacio tra Cleopatra e Cesare e un bacio mio a Venezia oggi sono oggettivamente in una relazione di successione temporale anche per la relatività tutti gli osservatori concordano su questo fatto non perché ci sia una relazione causale tra i due baci ma perché potrebbe esserci il mero fatto che i due eventi potrebbero essere connessi che tecnicamente diciamo che il bacio di Cleopatra è nel nel cono passato di un qualsiasi mio bacio oggi questo questo è garantito anche nella relatività però il passare del tempo sembra dura qualcuno pensa che sia possibile nonostante tutto immaginare che ogni punto dello spazio-tempo abbia abbia un suo passare e che il tempo consista di una una serie di rivoli di tanti passaggi diversi per ogni sistema di riferimento diverso non è del tutto chiaro esattamente cosa si salvi del passare del tempo dicendo questo però forse vi dovremmo addentrarci in dettagli più tecnici per capire in che modo questi filosofi e fisici pensano di salvare l'idea che il tempo passa queste sono le due alternative o la teoria o l'interpretazione standard è sbagliata oppure c'è qualcosa che non va con gli argomenti che abbiamo elencato che favoriscono chiaramente la teoria B o addirittura l'abbandono intero dell'idea che il tempo esista fatto quindi addirittura l'abbandono anche della teoria B uno potrebbe dire senti ma questo non è tempo non sono vere relazioni temporali se il tempo non passa se non esiste un presente che incede non ha senso chiamare temporali le relazioni di precedenza che potremmo ritrovare anche nella relatività uno potrebbe pensare così Goethe la volta l'ha detto Goethe l'ha detto che la teoria di Einstein ha rivendicato quelle teorie come quella di Parmenide lui menziona Kant tra quelli che pensano che il tempo il tempo del tutto sia illusorio in questo senso sia un puro fenomeno che non abbia nulla che gli corrisponde nella realtà grandi fisici e grandi filosofi hanno pensato questo qualcuno è un po' più conservatore e pensa che favorisca una teoria B e qualche poco coraggioso ritiene che nonostante tutto la relatività sia compatibile con l'idea con le teorie A Kappec che è un fisico un grande interprete di Bersant pensa a questo ma è un'opinione veramente minoritaria vai Adriano che vuole dire qualcosa no era solo in particolare non oggi perché il tempo passa ma una volta bisognerebbe discutere e disporre sulle interazioni anche delle interpretazioni diciamo standard la più equipaggiata di consenso se non universale maggioritario e la meccanica quantistica nel senso che uno degli attacchi più recenti Carlo Rovelli che avevamo menzionato anche l'altra volta è uno di quelli che dice no la meccanica quantistica è la teoria fondamentale e lì ci sono argomenti per abbandonare il tempo come illusorio adesso non voglio dire che bisogna dire che non c'è in qualche senso ci potrebbe pure essere come illusione ma se c'è c'è solo come illusione d'accordo? mettiamola così questa parte la seconda parte è che sì è vero Gödel aveva un'idea che io trovo affascinante però è quasi folle per lui lo stabilire che qualche cosa sia possibile è sufficiente a dire che è dunque reale questa diventa una roba che solo i filosofi possono apprezzare cioè il fatto che esistesse un'interpretazione coerente della teoria che era questo famoso universo rotante eccetera è per lui sufficiente a dire che dunque il mondo secondo lui è per almeno idea gli altri sono confusi su questo bisognerà ritornare io mi proporrei a meno che non abbiate delle vere osservazioni molto urgenti di chiudere per oggi e mettersi in testa in un tempo relativamente non troppo lungo di guardare al lato meccanica quantistica della della situazione in fisica questo è il mio parere certo io vorrei fare due tre appunti prima della chiusura appunto allora una domanda che sorge è ma allora tutto in relatività speciale o in generale è redattivo e non c'è nulla d'assoluto beh in realtà no cioè non è così nel senso che ci sono comunque degli oggetti che restano assoluti ad esempio quello che prima è l'intervallo spaziale per Galileo per la natura stessa delle trasformazioni Galileo questo è assoluto come diceva proprio all'inizio del video Emiliano la distanza del Barcio da Parigi a Venezia non mi ricordo cos'era era fissa e assoluta per qualunque osservatore in relatività questo non è così come lo era per sempre per Galileo la separazione temporale dei due eventi erano simultanei in relatività non è così però l'unione di queste due cose cioè l'intervallo spazio-temporale questo resta ancora assoluto e più in generale in relatività generale quelli gli oggetti che restano assoluti per ogni osservatore che hanno lo stesso valore per ogni sistema di riferimento in relatività generale per ogni sistema di coordinate qualunque qualsiasi sistema di riferimenti accelerati qualsiasi cosa si chiamano in fisica gli scalari cioè quegli oggetti che non e il secondo diciamo appunto che veniva da fare era quando tu Emiliano dici abbandonare il tempo esattamente cioè in che senso perché comunque la relatività sì è vero che implica che ok gli eventi non tanto gli eventi sì che se vuoi gli eventi non escono mai dalla realtà appunto però non vedo come questo possa portare ad abbandonare in un certo senso il tempo cioè allora se andiamo da un punto di vista di teorie molto moderne e se vogliamo di battute poi queste sono anche interpretazioni molto personali di Rovelli e sicuramente le analizzeremo ok si può vedere il tempo come un fenomeno illusore emergente ecco non fondamentale però non vedo bene questo invece come sia in in relatività speciale cioè mi sembra che siamo ancora molto vincolati all'idea di tempo di scorrere del tempo nonostante sì possiamo dire che gli eventi non escono dalla realtà ma non 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 vedo bene questo questo punto di abbandono del tempo sì no scusami rispetto alla tua prima osservazione forse per essere più intuitivi quello che chiamiamo intervallo spazio-temporale nel nostro sistema di riferimento equivale al tempo che noi misuriamo anche questo è un assoluto per il mio orologio è corretto sono passate due ore tutti gli osservatori sono d'accordo che nel mio sistema di riferimento sono passate due ore e poi la velocità della luce naturalmente è un assoluto in relatività che non è vero invece nella nella fisica classica rispetto alla seconda cosa che dici il punto a me sembra chiedersi se quello che noi chiamiamo cambiamento sia davvero un cambiamento cioè se l'immagine della realtà che la relatività favorisce è questo blocco in cui sono incastonati attemporalmente o eternamente gli eventi quindi in un certo senso non esistono gli oggetti tridimensionali dicevamo l'altra volta il mondo ci sembra fatto di oggetti tridimensionali ecco quello che vediamo adesso è in realtà una piccola parte dell'accendino il quale in realtà è un verme quadridimensionale che ha una certa estensione se io rompo l'accendino questo noi lo percepiamo come un cambiamento nell'accendino primo se l'accendino è il verme quadridimensionale il verme non cambia l'intera espansione quadridimensionale dell'accendino non cambia in nessun senso perché tutte le sue parti non cambiano se l'accendino ha una parte temporale che adesso voi state vedendo questa parte temporale non esce dall'esistenza e non cambia lei stessa quindi questa immagine che la relatività sembra restituirci secondo la quale gli oggetti tridimensionali non esistono ma sono semplicemente delle piccole parti di oggetti quadridimensionali che noi non percepiamo non sembra che qualcosa possa davvero cambiare e se le cose non cambiano sembra che davvero il tempo perda un po' il suo mordente non solo per chi come Aristotele pensava che il tempo fosse essenzialmente collegato con il cambiamento però sembra abbastanza ragionevole che se nulla cambia se l'universo non cambia davvero e il tempo non passa no? non c'è non sembra poterci essere tempo senza cambiamento questa è la ragione secondo me per cui è profondamente conflittuale l'idea che il tempo esista e che le relazioni che noi chiamiamo temporali siano davvero relazioni temporali poi può essere una questione un po' terminologica vuoi chiamarlo tempo oppure no però sembra che in un senso molto forte quel mondo blocco non sia un mondo che contiene del tempo certo capito ora quello che intendo e soprattutto il mondo blocco che è ancora peggio non contiene oggetti no come dire il soggetto nel senso di subject matter la materia di cui discuto non è fatta di accendini di individui dipende dal vocabolario quello che nel linguaggio comune si dice le cose no ci sono veramente delle cose piuttosto arbitrarie che sono quelli questi vermi quadridimensionali in cui però si noti bene insieme al verme in cui compare il cosiddetto accendino compare l'immagine di me stesso la parete che c'è dietro una stella che passava il verme è una cosa molto strana per cui una volta che si accetta questa immagine che ci viene riflessa le teorie sono interessanti perché in realtà si lasciano interpretare però l'immagine che ti viene naturale a mio avviso è che non ci possa essere cambiamento non c'è la teoria ma non ci può essere perché non ci sono oggetti nel senso che in particolare se pensate al caso che probabilmente è il più naturale non c'è un oggetto il mio corpo che invecchia come non c'è il corpo di nessun altro non c'è il corpo che invecchia perché non ci sono i corpi per cui è inutile agitarsi se effettivamente dopo ci sono tutte le cose tecniche se posso mescolare il verme cosiddetto mio col verme cosiddetto di un altro quindi avere queste strane entità verminose che si mesclano però una volta abbandonato l'oggetto il cambiamento è insensato le parti temporali non invecchiano e quindi a maggior ragione un insieme di parti temporali non invecchia quindi chi invecchia? in un certo senso il cambiamento visto così è un po' sempre il vizio di vizio adesso senza connotazione troppo negativa di vedere ancora la realtà come qualcosa di separato dal tempo sempre ma sì dicevamo l'altra volta che Einstein aveva detto che la morte del suo amico in fondo non significava nulla questo voleva dire perché così come noi invecchiamo in un certo senso non compariamo non è successo niente non succede mai niente ecco questo è quello che diceva Herman Weill e questo è il senso dell'affermazione di Herman Weill non succede mai nulla davvero le cose sono ma non accadono ok beh su questo direi che possiamo che possiamo chiudere ok ringrazio a tutti per l'ascolto ringrazio ciao buona serata grazie